Bentornati in studio a Telegram, siamo con il vice sindaco di Firenze Cristina Giacchi, si occupa anche della pubblica istruzione e parlavamo della buona scuola, della scuola in generale, del comparto scolastico, c'è una diatriba vecchia, vecchia quanto la scuola almeno che quella tra scuola pubblica e scuola privata, anche la buona scuola viene criticata alla riforma perché ci sono delle agevolazioni previste che vanno anche agli istituti della scuola privata come ad esempio lo school bonus sulle donazioni liberali, ad esempio che hanno il tetto di 100 mila euro che comunque lo ricordiamo possono andare anche alle scuole statali, non soltanto a quelle private, però insomma come si risolve questa atavica guerra diciamo così? In realtà in Italia è stata già risolta perché noi abbiamo la legge 62, la legge sulla parità scolastica proposta all'epoca dal ministro Berlinguer e noi il sistema integrato pubblico privato è un dato di fatto in Italia, noi abbiamo un'istruzione composta a seconda dei livelli in proporzioni variabili di servizi scolastici erogati direttamente dall'amministrazione pubblica e di servizi invece pari, cosiddetti parificati erogati da istituzioni private e il sistema della parità scolastica è ormai in vigore da anni, allora dato questo sistema e dato il fatto che i numeri sono tali oggi che non saremmo in grado, diciamo neanche volessimo impiantare una politica dirigista di internalizzazione di tutto questo servizio non saremmo in grado di offrire, di ricavare le coperture e incideremmo, diciamo ammesso di volerlo fare non ci sarebbero le coperture, dovremmo poi valutare se fosse il caso di farlo atteso che c'è anche un principio di libertà di scelta nelle linee educative di empatia dei propri figli che si è inteso rispettare in questo paese dati certi elementi e requisiti che sono appunto quelli della parità, cioè noi riconosciamo la parità scolastica a chi offre certi tipi di garanzia alle istituzioni scolastiche private che offrono garanzie, non a tutte chiaramente, dato questo requisito di parità incidere ulteriormente penalizzando le scuole paritarie costituirebbe ad oggi un aggravio per il sistema pubblico, cioè se noi non sosteniamo in qualche modo l'offerta privata, l'offerta parificata della scuola e la domanda di quelle famiglie che lì vogliono portare i loro figli, ci troveremo ad appesantire il sistema pubblico in un modo che non è sostenibile. Quindi la scelta oggi è di fronte a tante scuole paritarie che sono in crisi, fortemente in crisi, anche perché in Italia si tratta spesso non di grandi istituzioni scolastiche, ma spesso di piccole scuole, di scuole, penso ai bambini più piccoli, alla scuola dell'infanzia, di scuole delle parrocchie, scuole che fanno economie risibili, che non stanno in piedi. Allora offrire un sostegno a questo sistema significa mantenere in piedi il sistema complessivo. Allora è chiaro che io stessa non sono favorevole ad un sbilanciamento ed eccessivo sostegno del sistema privato, ma dobbiamo affrontare il tema non facendoci vero delle ideologie e cercando di capire che cosa è in realtà il sistema scolastico nel Paese. Dato lo stato delle cose noi non possiamo privare anche il ramo paritario di un minimo di attenzione e di sostegno, perché questo è la vitalità di tutto il sistema. È un sistema di equilibrio, sostanzialmente verrebbe meno. Allora voglio introdurre il tema degli emigrati, ma vorrei farlo in un modo preciso, cioè facendo una domanda molto generale, ma le chiedo un parere insomma al di là dei dati e dei numeri. Spesso diciamo che la nostra formazione in Italia, qui mi riferisco anche all'università, non soltanto al sistema scolastico inferiore o delle superiori, è l'educazione migliore, perché dà una cultura generale, dà una cultura aperta, però questo probabilmente a un certo punto è venuto a scontrarsi con le esigenze del mondo del lavoro, invece sono molto pragmatiche, molto precise. Vi chiedo, la nostra scuola è ancora un'eccellenza in qualche modo? Ma la nostra scuola è ancora un'eccellenza, credo che a livelli soprattutto superiori. Noi abbiamo una formazione di base, diciamo, sulle materie culturali che pochi hanno nel mondo e credo che noi dobbiamo difendere questa specificità, non inseguire le chimere della formazione ipertecnologica o scientifica a tutti i costi, la difesa del liceo classico e dell'impianto di una scuola secondaria di secondo grado concentrata su poche materie in cui si approfondisce davvero la dinamica dell'apprendimento, io trovo che sia un elemento di qualità che non si deve perdere. Così come si deve recuperare la nostra scuola primaria che era la migliore del mondo qualche anno fa. Noi dobbiamo recuperare questi standard che non sono per noi inaccessibili. Quindi dobbiamo misurarci con la contemporaneità, con le ricerche che vengono dai paesi avanzati, spesso paesi molto piccoli, con livelli di welfare altissimi, quindi dove questi servizi possono essere sostenuti in modo importante, ma consapevoli della qualità che è culturale della nostra offerta. Ecco, noi siamo ancora molto richiesti, soprattutto negli ambienti di ricerca superiori, nelle strutture di eccellenza di tutto il mondo, ci sono ricercatori e studiosi italiani a qualunque livello, in qualunque disciplina, dalle umanistiche alle scientifiche, i laboratori di fisica, i laboratori astronomici. Il Nobel per la scelta è stato sfiorato da un italiano. Sfiorato da un italiano. Insomma, noi sappiamo di cosa siamo capaci e non è soltanto genio individuale che gli italiani, diciamo così, presentano in misura statisticamente rilevante, è anche una questione di strutture formative dove questo genio alberga, trova un mus fecondo. Dobbiamo non mortificarlo e soprattutto dobbiamo recuperare una capacità. Cioè, noi non dobbiamo auspicare un sistema che tiene qua i nostri cervelli, diciamo così. Noi dobbiamo immaginare un sistema che diventa attrattivo, che porta qua i cervelli degli altri paesi. Invece noi ancora non siamo attrattivi. Ricordo questa frase in una delle prime Leopoldri, Matteo Renzi, che disse che il problema non è quando emigrano i cervelli, ma è quando noi non riusciamo ad attrarre quelli che vengono dall'estero. Però l'ultimo dato che arriva dall'anagrafe italiana degli italiani residenti all'estero, l'Aire, fa un po' impressione. Lo vediamo anche nella scheda, nella grafica. Sono registrati nel 2015 107.529 connazionali che sono espatriati. Eccoli qua. È il 6,2% in più rispetto al 2014. 69,2%, ovvero circa 75 mila persone, sono emigrate in altri Stati europei. E di questi, quasi il 37% hanno un'età molto giovane, tra i 18 e i 34 anni. Fa anche sorridere, così mettiamo tutto sul campo. Ne parliamo che tra le mete preferite spiccano Germania e Regno Unito. Poi Svizzera e Francia sono più sotto nei numeri. Ma quel Regno Unito, proprio che pochi mesi fa ha votato per la Brexit, che proprio oggi, tra l'altro, discute della possibilità di fare delle liste dei lavoratori stranieri, insomma, per in qualche modo complicare la vita, diciamo, agevolare i lavoratori inglesi a lavorare nelle proprie aziende e scoraggiare, infatti, gli stranieri. Insomma, il dato, come dire, deve far paura, deve far riflettere in qualche modo? Ma indubbiamente queste percentuali non sono cervelli in fuga soltanto. Qui sono lavoratori in cerca di un'occupazione che attraversano l'Europa e girano per l'Europa. Ripeto, se ce ne fossero altrettanti che vengono a cercare opportunità in Italia non sarebbe drammatico, sarebbe normale, se pensiamo agli Stati Uniti di Europa. Purtroppo non è così. Noi sappiamo qual è la condizione dell'occupazione in Italia, la condizione del precariato, che non sarebbe nulla se ci fosse un sistema fluido e flessibile. Invece noi sappiamo che precariato vuol dire, precariato è basta, vuol dire precariato magari una volta soltanto. Ci sono paesi dove si vive da precari tutta la vita, ma si cambiano posti di lavoro, si trovano altre opportunità. Da noi spesso appunto il precariato è una volta via e precaria. E questo crea grandi flussi migratori, soprattutto di giovani. Ora, è interessante perché i paesi verso i quali ci sono questi flussi sono chiaramente quelli dove c'è un livello di occupazione più alto e soprattutto è più facile, anche burocraticamente, l'accesso ai posti di lavoro. A posti di lavoro molto brevi, per una settimana, io mi ricordo l'Inghilterra, Londra, è piena e piena di ragazzi che vanno a lavorare, lavorano una settimana al mese, due settimane al mese, perché poi studiano, fenomeno diffuso. Da noi è impossibile lavorare in quel modo. Io mi ricordo un periodo, per lavoro frequentavo lo stesso ristorante, c'erano sempre camerieri diversi. Ho detto, ma come mai? Diceva perché qui lavoriamo pochi giorni al mese, perché facciamo tante cose, lavoriamo in tanti posti e questo presenta una flessibilità che si concilia anche con l'edigenza di chi studia. Allora molti vanno a studiare a Londra perché lì lavorano qualche giorno al mese, possono studiare e trovano tante opportunità. È chiaro che proprio in questi giorni si sta parlando, appunto come dicevi, in Inghilterra, di ridurre queste opportunità per i lavoratori che vengono da fuori perché la pressione è alta. Tra l'altro il terzo Stato, come il numero, è la Svizzera e anche lì si sta discutendo delle stesse ore. Lì c'è un'altra ragione, che gli stipendi sono molto alti. Quindi mentre in qualche caso si tratta di cercare un'opportunità di lavoro non precaria o comunque buona, nel caso della Svizzera spesso sono i frontalieri quelli che attraversano tutti i giorni, ma hanno a parità di lavoro i stipendi tre volte superiori. Una segretaria credo possa prendere intorno a 3.000 euro. E però anche lì la Svizzera corre ai ripari in qualche modo rispetto a questa questione. Sta cercando, sì, è un problema che abbiamo e che dobbiamo affrontare e gestire. Tra l'altro, insomma, su questo c'è anche un dato forse innovativo, in parte però l'abbiamo già detto, perché rispetto alla concezione anche diffusa che sia il sud d'Italia quello che migra di più, perché le condizioni anche devolative, insomma come dicevamo prima, sono più complicate. Invece nel 2015 è stata la Lombardia la prima regione in valore assoluto per partenza eseguita dal Veneto, quindi forse due delle regioni che producono di più in Italia, dove c'è più lavoro in qualche modo, dove si lavora meglio. Sì, c'è anche tanta popolazione, quindi probabilmente ci sono numeri percentuali alti e persone qualificate che possono aspirare ad avere ruoli dappertutto. Sono anche regioni a forte tasso di immigrazione. E questo è un sistema che comunque tra, infatti tra immigrazione e immigrazione evidentemente c'è correlazione. C'è correlazione, deve far riflettere. Allora siamo quasi in chiusura, però volevo chiedere al Vice Sindaco un paio di questioni, insomma esulando anche dal discorso della scuola e della formazione, anche se una domanda via gliela devo fare. Qualche tempo fa è uscito Cantone dell'autorità anticorruzione, fece una dichiarazione importante sull'università, disse in diverse università c'era una situazione di baronati e situazioni del genere che portavano a vere e proprie situazioni di corruzione. Le chiedo il mondo universitario come sta in Italia, qual è il termometro anche di quello? Io vengo da lì, come sapete professionalmente, trovo che lì abbiamo un problema serio, serio che andrà affrontato e non necessariamente a suon di riforme sulla carta epocali e poi non attuate. Io sono stata una forte oppositrice della riforma Gelmini, ritenevo appunto che poi è una delle tante riforme a costo zero che poi non riformano, ha introdotto alcuni principi sacrosanti, cioè la valutazione del merito, benvenuto Cantone, non ci ha detto una novità, anche se credo molto spesso si confondano tante dinamiche nel mondo dell'università e nella non trasparenza appunto poi scattino le opportunità di corruzione e di forzatura del sistema. C'è bisogno di riportare l'attenzione sul nostro sistema universitario e sulle enormi responsabilità che ha nella formazione delle classi dirigenti. Noi abbiamo ignorato questo problema, non abbiamo voluto affrontarlo quando è stato il momento e ci troviamo adesso con l'università svuotata, svilita nell'opinione pubblica perché è stata giustamente mal considerata per tante cose ma come spesso facciamo in Italia buttiamo via il bambino con l'acqua sporca e ci dimentichiamo che da lì vengono tutti quei geni e quei cervelli che poi fuggono e ci fanno guadagnare stima all'estero. Quindi noi dobbiamo essere più consapevoli del valore che c'è nelle nostre università, raccontarlo meglio e smettere, io lo dicevo ai miei colleghi più anziani quando non ero in aspettativa, ero attiva all'università, guardate noi non possiamo pensare che le persone ci riconoscono un valore to core, viviamo in un mondo dove il valore dell'università deve essere raccontato, fatto vedere, con trasparenza e dobbiamo anche investire su questo con responsabilità. Allora io voglio un'università dove il rettore è responsabile dei docenti che entrano e che vengono chiamati, dove un direttore di dipartimento è responsabile delle chiamate che avalla, perché allora tante cose non si sarebbero viste e si sono cominciate a vedere con la stretta delle risorse, perché finché c'erano risorse, guardate uno bravo alla fine entrava all'università sempre, chi era bravo se lo meritava e che insieme a lui magari entravano tanti un po' meno meritevoli, un po' più appoggiati e questo è stato il guasto, con la diminuzione delle risorse e lo stringersi delle maglie d'ingresso purtroppo non sono rimasti fuori, gli esuberi non sono stati soltanto tra i meno meritevoli, sono stati in troppi, erano dappertutto, quindi tra i buoni e tra i brevemente gli hashtag di oggi ne vediamo soltanto un paio, il terzo è un trend che è girato molto sui social network, Inferno Movie, d'altra parte riguarda Firenze perché proprio oggi è stata presentata questa opera che naturalmente ha come ambientazione Firenze e poi nei prossimi giorni verrà diversi eventi la prima esclusivissima al teatro dell'Opera sabato sera, il primo hashtag invece riguarda ancora oggi come è stato anche ieri Benigni per la sua difesa nei confronti della riforma costituzionale e gli attacchi però che ne sono conseguiti anche nei confronti della sua persona, le chiedo un commento su questo rapidissimo, insomma anche sul referendum che si terrà il 4 dicembre. A me fanno un po' sorridere questi, ieri c'era il confronto Grillo-Benigni e veniva fatto il sondaggio su una televisione nazionale tra Benigni e Grillo, trovo che però una cosa sia vera e cioè che la Costituzione più bella del mondo prevede anche una modalità per essere riformata e mantenere questa posizione in classifica di Costituzione più bella del mondo. Noi dobbiamo semplicemente fare quello, senza fare tanti drammi, senza farlo diventare come purtroppo è al momento una battaglia contro il governo perché guardate non è detto che il governo cambi se voi votate no alla riforma e questo è che vorrei dire. Quindi chi pensa con la riforma, votando no alla riforma, di cambiare le politiche del Paese, non è detto che abbia soddisfazione. Concentriamoci su quello che è la riforma costituzionale e su quello che è il referendum. Il referendum è per fare la riforma della Costituzione su quei punti specifici. Non valuta la legge elettorale, non valuta i poteri del governo, non valuta la tenuta delle nostre camere in questo momento, non è collegato alla tenuta delle camere. Quindi farei molta attenzione nel non confondere tutti questi piani. E restare sul merito. Va bene, grazie mille a Cristina Giacchi per essere stata con noi. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi per averci seguito da casa. Ci vediamo domani a Telegram. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.